Il parco Balsamo L'amministrazione comunale è intervenuta. Il sindaco Paolo Perrone e l'assessore all'ambiente Andrea Guido hanno dimostrato di esserci e si pensa adesso all'idea di chiudere il parco di notte affidandone le chiavi alle associazioni del quartiere. Sono molto contento della visita del sindaco, gli aspettavo da diverso tempo, devo dire la verità. Ho iniziato con la chiesetta Balsamo dove ci sono un po' di problemi più evidenti nel quartiere perché c'è una serie di disfunzioni da un po' di tempo, in particolar modo da quando è venuto a mancare il consiglio circoscrizionale. Ci rendiamo conto che pur pulendo costantemente alcune zone della città comunque c'è sempre del degrado perché causato dagli stessi cittadini e residenti. Quindi c'è il problema del vandalismo che stiamo cercando comunque di eliminare anche con l'aiuto di protezione civile, con l'associazione di volontariato, con le guardie ecozofile soprattutto che sono sempre presenti sul territorio. Questa iniziativa è nata spontaneamente da un gruppo di mamme e papà che quotidianamente fruiscono del parco con i loro bambini. All'interno dello stesso ci sono delle situazioni di pericolo non solo per i più piccoli ma anche per le persone adulte, per gli anziani in particolare. Ovviamente questa non è una manifestazione contro qualcuno ma vuole essere di monito e di invito a tutti i fruitori dei parchi a tenere pulito l'ambiente in cui si vive è un invito all'amministrazione pubblica a vigilare con più attenzione anche i parchi periferici.